Contributo da un milione e mezzo di euro per le associazioni di protezione civile, la Giunta regionale, superposta dell'assessorato competente, ha deliberato l'erogazione della somma al ristoro delle spese sostenute dai volontari del Veneto per affrontare le conseguenze delle emergenze sanitarie da Covid-19. Dall'8 febbraio fino al 31 luglio, la fase più acuta, abbiamo avuto oltre 9.000 volontari in campo, sottolinea l'assessore alla protezione civile, persone che hanno donato complessivamente oltre 130.000 giornate di attività con azioni in più campi, dal montaggio delle tende per l'attività di pretriage all'esterno delle strutture ospedaliere all'allestimento di 5 ospedali dismessi per le emergenze, dall'informazione alle persone che si recavano presso le strutture sanitarie al supporto ai centri operativi comunali e alle sale operative regionali e provinciali, dall'assistenza alla popolazione per la consegna dei generi di prima necessità, alla fondamentale distribuzione delle mascherine alla cittadinanza, inizialmente irreperibili e molto ancora.